Gabriele Abutbul, il contractor israeliano, ritenuto il complice di Shmuel Peleg nel rapimento di Eitan Biran, ha chiesto di venire scarcerato. Il suo legale, l'avvocato Cataldo Intrieri, ha presentato ricorso al Tribunale del Riesame di Milano contro l'ordinanza di custodia in carcere emessa dal GIP di Pavia. Abutbul era stato arrestato il 25 novembre scorso a Cipro, dove risiede, con le accuse di sequestro di persona aggravato, sottrazione e trattenimento all'estero di minore e appropriazione del passaporto del bambino. Nei suoi confronti e nei confronti del nonno Shmuel, la procura di Pavia aveva emesso due mandati d'arresto internazionali. Ora Abutbul si trova ai domiciliari e non può lasciare il paese, ma per il suo avvocato non c'è alcuna necessità di un arresto perché il bambino è rientrato in Italia. Per il legale, va dimostrato anche che fosse stato notificato un divieto di espatrio per Eitan. Il contractor aveva spiegato di non aver partecipato al rapimento del bambino, ma le indagini della polizia. Hanno evidenziato come l'aereo privato che ha portato Eitan in Israele, prima di tornare in Europa, abbia fatto una tappa a Cipro, proprio dove abita Abutbul. Il 50enne è anche in attesa della definizione della procedura di estradizione verso l'Italia, così come il nonno Shmuel, che però si trova ancora a Tel Aviv e per il quale è improbabile che le autorità israeliane diano seguito alla richiesta della procura di Pavia. Grazie a tutti.